ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono anita quella che è passata di qui prima era francesca e come sempre questo è curiosando lanzarote bene amici allora io vi sto registrando questo video sabato voi lo vedrete domenica sera ma in realtà io ve lo sto registrando oggi che è sabato il tempo qui a lanzarote oggi è terribile perché non c'è sole c'è una calima impressionante fa caldissimo la temperatura non lo so quant'è ma è veramente alta il tasso di umidità anche e speriamo che duri solo oggi perché non so io quanto posso sopportare questo caldo caldo torrito non era previsto qui a lanzarote era solo previsto per le isole di rancanari e tenerife ma è arrivato anche qui quindi oggi abbiamo avuto stiamo avendo una giornata veramente terribile quindi vi lascio in compagnia delle immagini in quale nelle quali potete vedere esattamente quello che vi ho appena detto e poi subito dopo vi lascio in compagnia di uno spezzone che vi ho registrato venerdì sera a teghise alla via de teghise dove si è svolta la notte bianca una manifestazione che fanno tutti gli anni una fiera bellissima noi siamo andate quindi godetevi teghise di notte ma prima costa teghise immersa nella calima a dopo ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.